scolla a tutti ben ritrovati in questo ultimo sicuro gameplay di legacy of rust gli altri ritrovate linkati in basso insieme ai miei social se vi fa piacere dateci un'occhiata iscrivetevi al mio canale raga se vi piace doom cioè venite a conoscermi perché ne vale la pena se non vi piace doom venite lo stesso perché quasi nerda si nerda di brutto quindi da buon nerd andiamo a nerdare dovrebbe mancarmi parte del penultimo livello più l'ultimo livello di legacy of rust e questa nuova espansione aggiunta con l'ultimo aggiornamento di doom più doom 2 loss level ma si parla comunque insieme ad altri livelli scartati si lost levels è un'altra espansione che devo giocare mi fa meraviglia che non l'hanno messa potevano metterla qui in mezzo comunque detto frankly allora si eravamo rimasti qua la missione ho preso già tutti i segreti a a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nuovo nemico nel livello di prima. Maledetto nello scorso gameplay. Passando 0 segreti. Non ho beccato il nuovo nemico. Non ho beccato il nuovo nemico. Forse in questo? Non ho beccato il nuovo nemico. Era un cyberdemone particolare. Era un cyberdemone particolare. Era un cyberdemone particolare. Era un cyberdemone. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.